Ciao, sono Caterina e quando avevo 18 anni immaginavo il mio futuro come una scrittrice. Molti mi sconsigliavano di intraprendere questa carriera e di sceglierne invece una più stabile, più certa, di più facile accesso. Io in maniera un po' incosciente ho seguito il mio sogno e oggi sono una sceneggiatrice. Effettivamente ho moltissime difficoltà nel mio lavoro e questo non soltanto perché faccio un mestiere molto incerto. Ovviamente essendo una libera professionista non mi aspetto di ricevere uno stipendio mensile, però ciò che non avrei mai immaginato è che purtroppo in questo mestiere, come spesso anche in altri mestieri sempre in ambito artistico, lavoro e retribuzione non si accompagnano necessariamente. Mi è capitato di lavorare gratis, spero che non mi ricapiti più e spesso le retribuzioni che ricevo non penso che siano adeguate alla professionalità, all'impegno e alla competenza che io metto nel mio lavoro e in ogni caso non mi permettono di costruire una vita serena e di fare dei progetti che vadano al di là della mia sopravvivenza. Per il mio futuro io desidero e mi aspetto serenità, io voglio riprendermi la mia serenità, voglio riprendermi la libertà di fare dei progetti in base a ciò che io desidero e non in base a ciò che mi posso permettere, e cioè purtroppo allo stato attuale molto poco. Per riprendermi avrei bisogno di un sistema lavorativo meritocratico in cui, a prescindere dal lavoro che si fa, le proprie competenze vengano ricompensate in maniera equa e in maniera giusta e avrei bisogno di vivere in un paese in cui a nessuno verrebbe mai in mente di richiedere una prestazione professionale senza pagarla.